I politici non si allontanino dal popolo, altrimenti da peccatori diventano corrotti. Così Papa Francesco nella Messa, nella Basilica di San Pietro, davanti a 500 tra deputati, senatori e rappresentanti del governo. Aldo Maria Valli. Erano tanti, tanto chiusi, allontanati dal popolo e da peccatori sono diventati corrotti. E' tanto difficile che un corrotto si è riuscito a tornare indietro. Papa Francesco si rivolge così ai 500 parlamentari che hanno preso parte alla Messa, celebrata per loro nella Basilica Vaticana di Buonmattino alle 7, prima dell'appuntamento di Bergoglio con Barack Obama, fra i presenti deputati, senatori e numerosi ministri del governo. Al tempo di Gesù, dice Francesco, c'era una classe dirigente che si era allontanata dal popolo, perché è capace soltanto di seguire la propria ideologia. Questi uomini si trasformarono. Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama a loro sepolcri imbiancati.